In questo modo un fuoco d'artificio presenti alla città di Devoratti di Acquasparta fatta oggi presso l'istorante all'ospestia di Acquasparta la città per gli autobili natale come vedete tanti tanti dispositivi possono avere accorsi per proteggere il naturale il fumoso di spettacolo rosso-verde anche per incoraggiare la più ragazza che partiremmo con domani del prosinome sarà sold out quindi speriamo che la traspetta di domani sia positiva questi insomma sono gli auguri commemorabili di Acquasparta a tutti i tifosi quindi presso la cena di Natale c'è una cena anche con riffa finale quindi si festeggiano le fere e tantissimi auguri a tutti i tifosi rosso-verdi